Un centro polifunzionale di nuovo tipo dedicato soprattutto ai giovani al Parco Arbostella, al via i lavori finanziati con fondi europei ed inseriti nell'ambito delle opere per San Matteo con circa un milione di euro. 140.000 euro invece il contributo del Comune da completarsi entro il 30 dicembre con l'ospicio di far partire i servizi già a gennaio. Ad un solo mese dalla gara, per evitare di perdere i fondi, il Comune ha aperto le attività di cantiere all'interno della struttura già di proprietà dell'amministrazione in via Verdi nei pressi del Teatro Arbostella. La novità sta soprattutto nella tipologia dei servizi offerti, rivolti in particolare ai più giovani con cinque laboratori tra musica, attività culturali e multimediali. All'avvio dei lavori anche il governatore che ha spinto per il progetto De Luca si è soffermato anche a parlare alcuni minuti, oltre che con il sindaco Enzo Napoli, anche con alcuni consiglieri comunali come Angelo Caramanno e Dora Sticarlo. Qui saranno realizzati cinque laboratori diversi, laboratori multimediali, laboratori teaterali, ci sarà un laboratorio musicale con la realizzazione di una sala di incisione. Questa è una cosa importante perché darà la possibilità a tanti giovani salernitani che suonano e che non hanno la possibilità di vedere realizzato il loro prodotto, di venire qui e di venire a realizzare il loro sogno. In più, è un intervento di laboratori culturali, di presi in carica, è quello che poi è il servizio sociale vero. La cosa importante è che questo fondo che abbiamo avuto dalla regione Campania, i fondi europei, è un POR di funzionale della regione Campania, abbiamo avuto un intervento, abbiamo avuto un finanziamento di circa un milione e sessanta mila euro. 560 mila euro saranno per la ristrutturazione di questo immobile con la realizzazione anche di spazi verdi attrezzati, un campetto di calcio e un anfiteatro che servirà soprattutto ai giovani che faranno attività di laboratorio teatrale, di poter anche d'estate continuare ad esercitare le loro ambizioni. Ma l'altra cosa importante è il progetto di circa 500 mila euro, che sarà proprio per il servizio, per la realizzazione del servizio che faremo all'interno del centro. Quindi si rafforza sempre di più l'intervento e l'attenzione dell'amministrazione comunale e lo facciamo grazie a un lavoro disteso fatto con chi è all'interno dei quartieri che riesce ad intercettare soprattutto i nuovi bisogni delle nuove generazioni di salernità.